Allora siamo qui a Verona, a Fiera Cavalli, con il mitico, l'amico Federico Danzi, campione italiano e campione d'Europa uscente. Federico, cosa ci mostri, perché ho visto l'ordine di partenza, praticamente ogni 5 cavalli ci sei tu, ma quanti cavalli hai e che cosa vuoi vincere? Allora, qui a Fiera Cavalli Verona ho 12 cavalli, di cui 4 nel Futurity, uno nel Pole Batting Futurity, uno nel Pole Open e uno nel Juvenal. 12 cavalli sono tanti, cerchiamo di conquistare i titoli affermati, Futurity, Barrel Open e gli altri. Però io ti conosco anche al di fuori delle veste di Cavaliere, ognuno di noi, quando va a cavallo, quando porta tanti cavalli, c'ha anche il cavallo del suo cuore. Ci vuoi parlare un po' di qual è il cavallo del tuo cuore? Beh, guarda, allora, io uno in particolare, diciamo, non è che ce l'ho, però ne ho due, tre che sono proprio cavalli che mi hanno dato il massimo e continuano a darmi il massimo, di cui la Fast to the Max, Famous, Very Easy, Mafia, Fame, Chic Frenchman, Fame, che sono cavalli che ormai mondo da anni e anni e conquistano titoli da anni. Io stamattina t'ho visto, è partita la giornata non tanto bene, tu eri partito alla massima della velocità, però poi è andato un paletto a terra, ma sicuramente nel pomeriggio ti rifarai, no? Sì, cerco di rifarmi nel pomeriggio, questa mattina sono stato un po' sfortunato, però fa parte del gioco, quindi non ci demoralizziamo. In bocca al lupo Federico. Grazie.